Siamo alla Festa delle Famiglie a Torino, il Giardino Pellegrino, oggi è domenica 5 maggio, questo è un appuntamento molto importante e comincio una serie di interviste per riconoscere gli organizzatori di questa festa e anche le altre associazioni che hanno collaborato all'organizzazione e la prima ospite di oggi è Sara Cinardo, benvenuta, Sara è la referente del gruppo Piemonte di Famiglia Arcobaleno e quindi passerei subito a chiederti di raccontarci qual è il senso di questa festa delle famiglie che ricordo ha lo slogan famiglia alla riscossa e sì raccontarci perché questa giornata, perché è importante, perché siamo qui. Grazie mille, grazie di questo momento e di parlare di noi. La festa delle famiglie è un evento ormai storico del mondo LGBT QIA+, è promossa in tutta Europa, si inserisce all'interno dell'International Family Equality Day promossa da Nelfa in tutta Europa, ovunque vi siano associazioni di genitori LGBT QIA+. La festa delle famiglie è promossa in tutta Italia da Famiglia Arcobaleno, l'associazione italiana di genitori LGBT QIA+, ed è nel mese di maggio principalmente si ritroverà in circa 12 piazze e giardini italiani in tutte le regioni. Nello specifico oggi ci troviamo qui al Giardino Pellegrino, siamo ospitati dalla Fondazione Comunità Portapalazzo ed è importantissimo per noi essere qui oggi in questo quartiere perché Famiglia Arcobaleno ritiene, è un valore fondamentale nostro, la lotta non può che essere intersezionale. Quindi la festa delle famiglie è una festa in effetti di tutte le tipologie familiari, che siano etero, LGBTQIA+, che siano con genitori trans, a basso reddito, famiglie migranti, adottanti, affidatarie, qualsiasi tipo di famiglia, con o senza figli, che abbiano avuto figli da PMA, da GPA, sappiamo che la famiglia non è una ma si parla di famiglie e quindi oggi vogliamo celebrare e rivendicare i diritti di tutte le famiglie. Nello specifico Famiglia alla riscossa, come dicevi tu, è lo slogan di quest'anno della festa delle famiglie 2024 perché da più di vent'anni il vuoto legislativo ci costringe alla corsa, alla rincorsa, alla riscossa di quei diritti da cui oggi le nostre famiglie sono ancora fuori. È un appello quindi allo Stato, alla legislazione, alla normativa perché i diritti vengano riconosciuti a tutte le tipologie familiari, nel nostro caso come Famiglia Arcobaleno, alle famiglie composte da due madri o due padri. Vediamo che questo governo, soprattutto nello specifico, sta cercando di cancellare quelli che sono i pochi diritti raggiunti dalle nostre famiglie. Si veda per esempio il caso di Padova, dove 33 e più madri sociali sono state cancellate dallo Stato, dagli atti di nascita dei loro figli. Il DDL Varchi che cerca di rendere illegale la GPA, la gestazione per altri e quindi per le coppie di padri. Tutti i passi indietro che stiamo facendo vanno a ledere i diritti di quelli che sono i figli già nati e che stanno nascendo e che nasceranno in queste composizioni familiari. E non ci stanchiamo di ripetere che quando un diritto è solo di qualcuno allora è un privilegio e noi vogliamo che siano diritti quindi riconosciuti a tutte le famiglie. Infatti lo slogan è famiglia alla riscossa ma anche col sottotitolo pari diritti stessi doveri perché come avete gli stessi doveri in quanto famiglie nei confronti dei figli e come cittadini bisogna avere anche gli stessi diritti. Quindi questa è una festa di qualsiasi tipo di famiglia, un'occasione per pranzare insieme. Infatti ci sarà un momento di pranzo condiviso però è anche un momento di manifestazione, di rivendicazione. Si celebrano queste famiglie, le identità che la compongono e sicuramente è anche un momento per socializzare e magari incontrare persone che attraversano un'esperienza simile alla tua anche per non sentirsi soli, per confrontarsi immagino. Sì, oltretutto appunto essere in piazza, la festa delle famiglie tipicamente vuole essere nelle piazze italiane per poterci rendere visibili, per poterci incontrare anche alle persone e con le persone che effettivamente non hanno a che fare con le nostre famiglie tutti i giorni o che pensano magari appunto anche che sanno della nostra esistenza ma non sanno di quanto sia difficile vivere questa condizione normativa per le nostre famiglie di dover lottare tutti i giorni. Famiglia Arcobaleno in generale è un'associazione che si occupa di combattere quindi per le famiglie composte da due donne o da due uomini, da due madri, da due padri, per i diritti appunto dei bambini che nascono e che crescono in queste tipologie familiari. È un appello allo Stato e alla legislazione perché questi bambini vengano riconosciuti e tutelati nei loro beni e nei loro affetti avendo il riconoscimento alla nascita dei due genitori, siano esse due madri e due padri. Famiglia Arcobaleno si è fatta promotrice insieme a Rete Lenford, avvocatura per i diritti LGBTQIA+, di una proposta di legge che è prodata in Parlamento e che vuole appunto chiedere allo Stato l'estensione di quei diritti che già esistono, quindi non è una legge che chiede diritti nuovi, ma diritti già esistenti che vengano estesi alle nostre famiglie, a persone single e a coppie di madri e di padri, indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dall'identità di genere. Quindi per esempio il matrimonio egualitario, come punti fondamentali matrimonio egualitario, riconoscimento alla nascita dei figli e delle figlie, il diritto all'adozione indipendentemente appunto per le persone single e per le coppie da orientamento sessuale ed identità di genere e la procreazione medicalmente assistita e la gestazione per altri, quindi per le coppie di donne e per le donne single e per le coppie di padri. Insomma, buona festa delle famiglie e credo che questa giornata sia molto bella anche proprio per testimoniare la vostra esistenza. Queste famiglie non sono delle rarità ormai, esistono e quindi è importante anche soprattutto vederle, conoscerle e normalizzarle sempre di più. Grazie mille Sara. Grazie mille, grazie mille a voi, grazie. Tra le varie associazioni che hanno collaborato per realizzare la festa delle famiglie di oggi che si sta svolgendo questa domenica 5 maggio a Torino, c'è anche Rete Genitori Rainbow che alla versione di Penelope abbiamo già avuto il piacere di avere come ospiti e ricordo che è un'associazione per tutte quelle persone LGBT che hanno avuto delle relazioni eterosessuali da cui sono nati anche dei figli. Quindi, vabbè, ricorderei a chi ci sta ascoltando bene chi siete e che cosa fate perché magari qualcuno che ci sta sentendo non vi conosce e poi faccio magari qualche domanda su questa giornata. Allora, io sono Luigi, afferisco a Rete Genitori Rainbow che è appunto questa associazione che raccoglie persone che hanno dei figli principalmente figli nati da precedenti relazioni eterosessuali e che come me, così andiamo subito nello specifico, vi parlo di me si sono accorti, hanno preso consapevolezza del proprio orientamento sessuale e hanno deciso quindi di uscire allo scoperto e viversi in maniera assolutamente libera nella consapevolezza di essere genitori e di essere anche gay o lesbiche. Quindi questo è il mio caso, io ho due figlie di 15 e 17 anni e ho un compagno ormai da 11 anni. Visto che si parla di famiglie, voi affrontate le realtà molto specifiche perché molte volte quando si apre questo discorso sulle famiglie arcobaleno si parla sempre di coppie omosessuali che vogliono costruirsi una famiglia e poche volte in realtà si parla del vostro caso. Invece è molto importante perché dovete affrontare delle questioni anche delle difficoltà molto singolari perché una famiglia c'è già però arrivano dei cambiamenti molto importanti. Allora noi rispetto a famiglia arcobaleno da un punto di vista dico in maniera un po' ironica ma l'ironia non è veramente tale abbiamo la fortuna di avere già dei figli che nessuno ci può togliere e che rimangono nostri e questa è una bellezza, una ricchezza. Io tornerei ad essere etero per avere i miei figli, le mie figlie quindi è un percorso che assolutamente non rimpiango la cosa che non è molto equa a livello sociale è che mentre le famiglie arcobaleno devono lottare con le unghie e coi denti per potersi manifestare in quanto famiglia noi la famiglia ce l'abbiamo come status di diritto il problema diventa legale perché poi ci possono essere dei dissidi con l'ex coniuge magari non sempre ci sono visioni comuni, non ci sono sempre intese e quindi per noi diventa una battaglia legale certe volte il fatto di avere la stessa importanza, la stessa presenza e anche il fatto di farsi accettare perché poi tu hai a che fare con la tua famiglia di origine con la famiglia che ti eri costruito e con la famiglia di chi ti sei sposato e tutto questo non giova quando c'è una separazione che spesso è traumatica e quindi è da gestire con tutto quello che comporta il fatto del coming out della novità, spiegare ai figli che papà resta sempre papà ma che adesso ha una preferenza diversa per un'altra persona che è del proprio sesso tutto questo in un contesto che non ti aiuta quindi questa è una specificità non da poco e noi accogliamo gente che manifesta questa sofferenza questa difficoltà ad emergere proprio per i problemi sociali che si strutturano di una persona che è stata per la società etero fino alla settimana prima e poi prende coraggio e dice no io veramente prediligo quest'altra strada però sono ancora io, dovete accettarmi per quello che sono quindi diciamo sempre a chi si rivolge a noi guarda che non sei da solo perché noi ci siamo siamo tutta una rete di persone e ti aiutiamo anche a fare appunto rete attorno a te sì immagino che a volte manifestino proprio la paura di perdere la famiglia perché comunque l'affetto rimane soprattutto per i figli ma immagino a volte anche comunque per l'ex partner in base a come vanno le cose quindi sicuramente ogni situazione sarà poi diversa ci saranno magari situazioni dove si mantengono dei buoni rapporti quindi si creano anche delle famiglie molto grandi con questi bambini che hanno la mamma e il papà biologici poi c'è il compagno del papà magari un altro compagno della mamma e quindi si vanno a creare proprio delle grandi famiglie molto uniche una diversa dall'altra sicuramente ci sono anche altre situazioni più complesse in cui poi le famiglie vanno ricostruite magari piano piano si devono riallacciare un po' i rapporti e credo che questo ci racconti proprio tanto di quanto ampie sono le possibilità di quanto diversa sia l'esperienza di ognuno di noi sì ci sono tantissime situazioni che sono poi quelle specifiche di ogni persona che si rivolge a Rete Genitori Rainbow io stesso ho vissuto un periodo di guerra familiare senza nascondere i termini dell'argomento intervallata e seguita da momenti di assoluta calma in cui col mio partner attuale siamo andati tranquillamente a casa della mia ex moglie con le mie figlie o lei è venuta da noi adesso lei è un compagno con il quale ci si vede chiaramente per quello che sono le necessità di parlare delle figlie piuttosto che nella quotidianità delle azioni prendere, portare una cartella, dire qualcosa però è significativo il fatto che l'integrazione è la parola magica, è la parola vincente quindi bisogna avere la pazienza di ricostruire nell'affermazione di sé quindi avere il coraggio di dire io rimango io con i miei valori quindi non nego nulla di ciò che è stato però proseguo verso una nuova dimensione che condivido quindi la condivisione innanzitutto e poi l'esperienza che ciascuno ha è un'esperienza particolare Ho ancora un'ultima domanda arrivano da voi anche persone che hanno deciso di intraprendere un percorso di affermazioni di genere perché abbiamo parlato più di coming out come magari omosessuali o bisessuali ma ci sono anche persone transgender che si rivolgono a voi? Sì, abbiamo avuto delle persone che hanno intrapreso questo percorso nel loro percorso di vita si è manifestata la necessità di doversi affermare per quello che sentivano ed avevano anche dei figli quindi una particolarità nella particolarità perché oltre all'affermazione di sé c'è poi l'affermazione dell'identità di genere che non sempre collima con la predilezione per la sessualità sono due cose che a volte divergono quindi sì, abbiamo anche avuto questo spettro di persone che si sono rivolte a noi Bene, io ti ringrazio tanto per aver parlato di quello che fate aver condiviso anche la tua esperienza buona festa delle famiglie grazie mille grazie a voi grazie per la possibilità che ci date di poter essere presenti e di poter dire che esistiamo e che siamo parte della società Arcobaleno rappresentata, inclusiva grazie grazie a te Luigi ciao continuiamo queste interviste alla festa delle famiglie qui al Giardino Pellegrino di Torino oggi domenica 5 maggio abbiamo visto che sono tante le realtà che compongono questa festa che hanno aiutato nella realizzazione di questa giornata e quindi adesso parliamo con un'altra rappresentante di una di queste associazioni quindi ho con me Ilaria che fa parte del direttivo di Genderlands che è questa associazione che sostiene le famiglie che hanno fili con un genere diverso quindi benvenuta, grazie ti chiederei di raccontare per chi ci sta ascoltando e magari non vi conosce proprio che cosa fate nel pratico come aiutate questo grazie dunque Genderlands è un'associazione nata da relativamente pochi anni che si sta diffondendo sul territorio nazionale e sostiene le famiglie che si ritrovano a dover affrontare un percorso di accoglienza e gestione di creature molto piccole che manifestano in varie età la volontà di appartenere a un genere diverso da quello che è il loro stato assegnato alla nascita contrariamente a quanto si pensa è una cosa che può avvenire anche in età molto molto piccola si è diciamo provato che la creazione dell'identità personale inizia più o meno tra i due anni e mezzo e a seconda del contesto in cui vivono alcuni bambini manifestano fin da subito la volontà proprio di di scostarsi da che so i vestitini rosa piuttosto che gli stimoli molto mascolinizzanti o molto femminilizzanti che ci sono in alcune famiglie altre volte invece questa riflessione su se stessi e questa ricerca dell'identità avviene nell'adolescenza Genderlands accoglie le famiglie cerca di orientarle perché i professionisti sanitari con cui vengono in contatto le famiglie a cui magari manifestano per la prima volta o per primi queste situazioni non sono preparati per cui noi cerchiamo di insomma di orientarle nel panorama che c'è e consigliarle secondo la nostra esperienza che è fatta dita quella della somma di esperienze di tante famiglie dove andare a seconda di quello che di quelle che sono le loro esigenze e siamo qui con famiglia Arcobaleno essenzialmente perché condividiamo l'essere famiglie l'essere famiglie di ogni tipo ogni estrazione con tanti obiettivi diversi e condividiamo la lotta che è quella dei diritti soprattutto dei bambini delle giovani persone che ci accomuna e della cosa che ci accomuna di più sì infatti spesso quando si parla di famiglie parli di famiglie Arcobaleno famiglie omogenitoriali ti concentri molto sui genitori chi sono come sono cosa fanno e a volte non si pensa che quando si parla di davvero dover tutelare tutti i tipi di famiglie bisogna anche guardare ai figli che magari sono sono LGBT nel vostro caso specifico trans o comunque con un genere diverso da quello segnato alla nascita e immagino che ad oggi siano molti di più genitori che possono avere ancora più preoccupazioni incertezze e perplessità quando si trovano con ad affrontare appunto un figlio che ha un genere diverso rispetto a non so la dichiarazione di essere omosessuale perché negli anni se ne è parlato molto di più di questo e quindi ci sono sicuramente più persone pronte immagino che invece nel vostro caso ci siano ancora più proprio ostacoli perché non si conoscono molte cose è vero diciamo che il principale ostacolo che noi vogliamo cercare di abbattere è quello dell'informazione e la conseguente disinformazione perché appunto è quello che incontriamo maggiormente il fatto che la gente non sappia che sia possibile non sappia distinguere il concetto di identità dal concetto di orientamento sessuale che è una cosa diffusissima tanti pensano associano la transessualità all'omosessualità che è una cosa completamente diversa per cui insomma dal basso noi cerchiamo di diffondere il più possibile l'informazione corretta anche perché nel nostro diciamo nel nostro direttivo nella composizione di gender lens ci sono anche molti ricercatori psicologi antropologi per cui come dire cerchiamo di dare un taglio il più scientifico possibile al tipo di informazione che diamo ed effettivamente hai ragione la transessualità o il non binarismo o comunque la varianza di genere è molto molto disconosciuta in Italia è più che mai importante quello che fate io ti ringrazio tanto per averci raccontato un po' di quello che fate magari ci saranno anche altre occasioni per risentirci buona festa delle famiglie grazie grazie anche a voi ciao a tutti festa delle famiglie organizzata da famiglia Arcobaleno ma in collaborazione con diverse associazioni tra cui Agedo e quindi ho qui con noi Gianni che è il presidente di Agedo Torino e Agedo è questa associazione che insomma aiuta i genitori i parenti amici di persone LGBT e immagino quindi soprattutto per aiutare quei genitori quei parenti che a seguito di un coming out magari hanno qualche difficoltà a capire a gestire questa notizia e quindi ti chiederei di raccontarci un po' le vostre iniziative che cosa fate praticamente ci hai detto quasi tutto tu nel senso che noi come associazione intanto siamo un'associazione come dicevi tu di genitori parenti e amici di persone LGBT ma soprattutto genitori le nostre iniziative diciamo sono molteplici la più importante è quella di accogliere tutte le famiglie che ne fanno richiesta le quali a fronte del coming out del proprio figlio o della propria figlia vanno in crisi perché non siamo assolutamente preparati a questa cosa quando ti nasce un bambino ti dicono o è maschio o è femmina appunto e nessuno ti mette di fronte e alla possibilità neanche tanto remota perché stiamo parlando di una popolazione che va dal 7 al 10% di persone LGBT e questa cosa il più delle volte manda in crisi una famiglia destabilizza destabilizza moltissimo e di conseguenza noi portiamo quella che è la nostra esperienza la nostra esperienza che ci ha portato a superare questo momento molto difficile questo momento che ci ha destabilizzato questo momento che ci ha mandato in crisi e appunto la nostra occupazione principale è questa ma non ci limitiamo a questo noi andiamo nelle scuole ad esempio tenete conto che solo quest'anno in Torino e provincia siamo stati chiamati da 46 scuole se teniamo conto che per ogni scuola ci sono almeno almeno due classi c'è l'impegno non dico che era gravoso ma è molto impegnativo oggi siamo qui in sostegno alle famiglie Arcobaleno perché noi crediamo che purtroppo ancora oggi c'è da lottare per il sacrosanto diritto a essere riconosciuti come famiglie perché in fin dei conti poi alla fine non fanno male a nessuno non tolgono niente a nessuno e non capiamo lo capiamo benissimo cerchiamo di contrastare questa onda che in qualche modo contrasta le famiglie Arcobaleno come lo fanno? lo fanno chi per ignoranza chi invece ma la fede quante volte abbiamo sentito dire non toccate i bambini noi siamo i primi a dire non toccate i bambini assolutamente assolutamente lasciateli stare lasciateli tranquilli perché io mi sono sentito dire una volta che ad esempio il figlio di una coppia omogenitoriale avrà dei grossi problemi ma io sono convinto che avrà dei grossi problemi ma veramente convinto se avrà la sfortuna di incontrare sulla propria strada qualcuno che puntandogli il dito gli dice la tua famiglia è sbagliata la tua famiglia non va bene la tua famiglia è contro natura addirittura è chiaro che un bambino di fronte a una cosa del genere ha dei problemi ma questi problemi come dicevo sono dettati dalla società esterna che veicola messaggi che secondo noi secondo noi sono perlomeno discutibili no? quante volte abbiamo sentito dire che un figlio abbia a un certo punto della sua vita voglia questa spinta a cercare le proprie radici ecco io dico che sicuramente questa cosa succede ma non è una regola universale io sono il papà che insieme a mia moglie abbiamo adottato un bambino noi siamo cis gender eterosessuali e a un certo punto visto che non riuscivamo ad avere un figlio abbiamo cercato di adottarlo la cosa ci è riuscita non senza fatica e a un certo punto io ho chiesto a mio figlio aveva più o meno 16 17 anni guarda che se tu hai la voglia senti questa cosa di cercare la tua mamma biologica noi ti aiutiamo in qualche modo facciamo non so come ma in qualche modo ti aiutiamo cerchiamo e la risposta del mio figlio mi ha lasciato diciamo perplesso perché mi ha detto no guarda voi siete la mia famiglia a me non interessa assolutamente sapere che era la mia mamma biologica quindi non è una regola universale è più che altro uno stereotipo e immagino che anche da questo tuo racconto si possa comprendere che ogni situazione sia unica e quindi bisogna capire con le persone coinvolte come muoversi che cosa provano quali esigenze hanno e immagino che voi lo sappiate molto bene avendo a che fare con i genitori sicuramente ogni famiglia ha preoccupazioni pregiudizi diversi e pensavo siccome durante questa giornata si parla tanto proprio di famiglie omogenitoriali che magari alcuni genitori a seguito del coming out magari un figlio si dichiara omosessuale può essere anche preoccupato per la famiglia che avrà perché magari cambia anche l'aspettativa che si era creato di avere magari una nuora dei nipoti e magari cambia e non si immagina quali possibilità possono esserci quindi sicuramente è molto importante quello che fate io ti ringrazio molto per questo momento ti ringrazio a te per lo spazio che mi hai dato e auguro a tutti una buona festa grazie anche a voi ciao ciao